Si levò allora Eliasib, sommo sacerdote, assieme ai suoi fratelli sacerdoti, e costruirono la porta delle pecore. Essi stessi la consacrarono e vi misero i battenti. Continuarono a costruire fino alla torre di Mea, che poi consacrarono, e fino alla torre di Cananeel. Accanto a loro edificarono gli uomini di Gerico. Vicino a questi costruì Zaccur, figlio di Imri. I figli di Senaah costruirono la porta dei pesci, ne fecero l'intelaiatura, vi misero i battenti, le serrature e le sbarre. Accanto a loro lavorò alla restaurazione Meremot, figlio di Uria, figlio di Akkots. Vicino a costui Mesullam, figlio di Berechia, figlio di Mesezabel. Vicino a questi riparò Zadok, figlio di Baana. Accanto ad essi lavorarono alle riparazioni le genti di Tecoa, ma i loro notabili non piegarono il collo al servizio del loro signore. Ioiadà, figlio di Paseac, e Mesullam, figlio di Besodia, ripararono la porta vecchia. Essi ne fecero l'intelaiatura, vi misero i battenti, le serrature e le sbarre. Accanto a loro restaurarono Melatia, il Gabaonita, Iadon, il Meronotita, e gli uomini di Gabaon e di Mizpah, per conto del governatore dell'oltrefiume. Vicino a costoro lavorò per le riparazioni Uzziel, figlio di Caraia, uno degli orefici. E accanto a questi riparò Anania, uno dei profumieri. Essi restaurarono Gerusalemme fino al muro largo. Al loro fianco restaurò Refaia, figlio di Kur, capo di metà del distretto di Gerusalemme. Al suo fianco restaurò Iedaia, figlio di Karumaf, di rimpetto alla propria casa. Vicino a lui restaurò Kattus, figlio di Casabnià. Malachia, figlio di Karim, e Cassub, figlio di Pacat Moab, restaurarono il tratto seguente e la torre dei forni. Al loro fianco, Sallum, figlio di Allokes, capo di metà del distretto di Gerusalemme, lavorò alle riparazioni con le sue figlie. Ripararono la porta della valle Canum e gli abitanti di Zanoac. Essi la costruirono. Vi misero i battenti, le serrature e le sbarre. Ricostruirono inoltre mille cubiti di muro, sino alla porta dell'etame. Malachia, figlio di Rechab, capo del distretto di Bet-Kerem, riparò la porta dell'etame. La ricostruì, vi mise i battenti, le serrature e le sbarre. La porta della sorgente la restaurò Sallum, figlio di Kol-Kose, capo del distretto di Mizpah. Egli la costruì, la ricopersse, vi pose i battenti, le serrature e le sbarre. Ricostruì inoltre il muro della cisterna di Siloe, presso il giardino del Re, fino ai gradini che scendono dalla città di Davide. Dopo di lui, Neemia, figlio di Azbuc, capo di metà del distretto di Bet-Zur, lavorò alle riparazioni di rimpetto ai sepolcri di Davide, fino alla cisterna artificiale e fino alla casa dei Prodi. Dopo di lui, restaurarono i Leviti, Recum, figlio di Bani, e vicino a lui Casabia, capo di metà del distretto di Keilah, per il suo distretto. Dopo di essi, lavorarono alle riparazioni i loro fratelli, Bin-Nui, figlio di Kenadad, capo dell'altra metà del distretto di Keilah. Accanto a lui, Ezer, figlio di Josue, capo di Mizpah, riparò un altro settore, di fronte alla salita dell'arsenale, verso l'angolo. Dopo di lui, Baruch, figlio di Zaccai, restaurò un altro settore, dall'angolo fino all'ingresso della casa del sommo sacerdote Eliasib. Meremoth, figlio di Uria, figlio di Accor, restaurò, dopo di lui, un altro settore, dall'ingresso della casa di Eliasib, sino alla fine di essa. Dopo di lui, lavorarono alle riparazioni i sacerdoti, abitanti delle Adiacenze. Dopo di loro, restaurarono Beniamino e Cassub, dirimpetto alle loro case. Dopo di essi, Azaria, figlio di Maaseia, figlio di Anania, lavorò alle riparazioni presso la sua casa. Bin-Nui, figlio di Kenadad, riparò, dopo di lui, un altro settore, dalla casa di Azaria fino alla curva, cioè all'angolo. Palal, figlio di Uzai, lavorò dirimpetto all'angolo e alla torre che sporge dalla casa superiore del re, che dà sul cortile della prigione. Dopo di lui, lavorò Pedahia, figlio di Pareos. Gli oblati, che abitavano Lofel, restaurarono fin dirimpetto alla porta delle acque verso oriente e di fronte alla torre sporgente. Dopo di essi, quelli di Tecoa restaurarono un altro settore, di fronte alla grande torre sporgente e fino al muro dell'Ofel. Al di sopra della porta dei cavalli, i sacerdoti lavorarono alle riparazioni, ciascuno di fronte alla propria casa. Zadok, figlio di Immer, restaurò dopo di loro di fronte alla propria casa e dopo di lui, restaurò Semaia, figlio di Secania, custode della porta orientale. Dopo di questi, Anania, figlio di Selemia, e Canun, sesto figlio di Zalaf, ripararono un altro settore. Dopo di loro, Mesullam, figlio di Berechia, restaurò di fronte alla sua camera. Malchia, uno degli orefici, restaurò dopo di lui sino alla casa degli oblati e dei mercanti. Dirimpetto alla porta della rassegna, e fino alla sala alta dell'angolo. Tra la sala alta dell'angolo e la porta delle pecore, lavorarono alle riparazioni gli orefici e i mercanti. Quando Samballat venne a sapere che noi edificavamo le mura, si indignò e si adirò terribilmente. Prese a schernire i giudei, gridando davanti ai suoi fratelli e ai soldati di Samaria. Che cosa stanno facendo questi miserabili giudei? Saranno forse lasciati agire? Offriranno sacrifici e finiranno in un giorno solo? Faranno forse rivivere dai mucchi di polvere le pietre già bruciate dal fuoco? Tobia, l'ammonita che gli stava a fianco, esclamò, costruiscano pure, ma se uno sciacallo si lancerà contro, rovescerà il loro muro di pietra. Ascolta, o nostro Dio, perché siamo oggetto di scherno? Fa ricadere sul loro capo il loro vituperio e abbandonali alla derisione in una terra di schiavitù. Non nascondere la loro iniquità e il loro peccato non sia cancellato dal tuo cospetto, giacché essi hanno pronunciato insulti in faccia ai costruttori. Orbene, noi ricostruimmo le mura, completandole totalmente fino a mezza altezza. La volontà del popolo era di agire.